Oggi è il primo giorno di vacanza per l'Istituto Superiore Fantoni di Clusone, eppure ci sono studenti e anche genitori a scuola per ridipingere alcune aule. Perché? Com'è nata questa idea? Genitori e qualche studente e anche qualche docente. La cosa è nata sia dal sottoscritto che da alcuni studenti. Il sottoscritto quando, passando in rassegna per i primi giorni le aule, ha visto che alcune aule erano in uno stato poco conforme alla dignità dei ragazzi. I ragazzi hanno diritto a un ambiente bello e pulito. Poi una classe mi si è rivolta una volta a me chiedendo ma noi non possiamo dare una mano a sistemare? Allora la cosa l'ho rilanciata sia ai genitori che agli studenti e molti si sono fatti avanti. Per cui adesso una trentina di persone sta iniziando a... Cioè in realtà abbiamo già iniziato in occasione dell'open day perché col personale interno abbiamo cominciato a rintinteggiare le corridoi, gli ambienti comuni. Ed ora cominciamo con gli altri piani e con le aule. Si lavora dunque durante le vacanze natalizie, poi si continuerà? Sì, sì, si continuerà. Adesso durante le vacanze faremo penso una decina di aule, i corridoi e poi proseguiremo durante l'anno. L'obiettivo è quello di rintinteggiare un po' tutto l'istituto. L'istituto già è una buona struttura e come dire, molte aule erano già anche in buono stato, però è bene che tutto l'ambiente sia bello e adeguato insomma alla funzione. Già che ci sono vorrei dire una cosa, perché questi aspetti non sono aspetti secondari. In termini tecnici, diciamo così, si parla sempre di curriculum implicito ed esplicito. Quello esplicito è dato dai programmi, dai contenuti, dalle lezioni che i ragazzi trovano. Però c'è un altro curriculum, cioè percorso che il ragazzo fa, dove sono importanti i comportamenti e l'ambiente stesso. Perché l'ambiente è il primo a dare un messaggio. Quindi una struttura ordinata e bella induce i ragazzi a comportarsi e ad assumersi una responsabilità. E poi la cosa veramente per cui, che vale la pena sottolineare, è la risposta che hanno dato tutti. Quindi dai genitori innanzitutto, gli studenti, ma anche qualche docente. Per cui è la stessa comunità che si fa carico di questo fatto. È la comunità che diventa educante, che si fa carico dell'educazione. Ne approfitto allora per fare gli auguri di Buon Natale e di felice anno nuovo ai genitori, anche agli insegnanti e a tutti i ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.